Hanno protestato sui binari della ferrovia Circumetnea. Una trentina di lavoratori della Metro Catania 2013, azienda contrattualizzata da tecnis per i lavori del cantiere metropolitano a Borgonesima, hanno così richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica. La protesta ha avuto il via perché nonostante gli accordi ufficiali ai lavoratori devono ancora essere saldati gli stipendi di settembre e ottobre e salari sino al 9 novembre. Nonché la cassa edile da luglio sino a ottobre. I salari non sono stati saldati nonostante le somme del SAL, lo stato di avanzamento dei lavori, siano già stati consegnati alla Metro. Anche oggi siamo a fianco dei lavoratori e anche in questa occasione non possiamo che ribadire che gli accordi, in questo caso confermati anche dal sindaco di Catania, devono essere rispettati. Dicarono il segretario generale della filea CGL di Catania, Giovanni Pistorio, e il segretario provinciale Carmelo Restifo.